Vorrei però ripresentare, giusto per correttezza, gli amici che suonano con me, che sono Fabrizio Mural e Tastiere. Un grande applauso, adesso lo merita. Sono quasi tutti del Conservatorio di Cagliari, quindi abbiamo veramente dei giovani e delle eccellenze, sono veramente onorato di suonare con loro. Danilo Zanda Basso, un grande della musica cagliaritana da un sacco di tempo, Carletto Pumitallo. Altro elemento del Conservatorio, Gianluca Sipere, Gianluca Corso alla batteria, si è sentito tutto. Dietro di me c'è un amico d'infanzia, un grande percussionista, questo signore ogni tanto parte a rappresentare la Sardegna per suonare in grossi concerti milanesi di zona insieme ai musicisti che vedrete dopo. E poi ci sono io, Roberto Cubetu alla chitarra. Grazie davvero. Il brano che facciamo adesso è un brano di impostazione jazzistica, tratto dall'Elepia Braxas di Carlo Santana, quello per intenderci di Oye Como Vai di Samba Pati, e si titola In Silent at Nashville. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.